La prima cosa che colpisce di Sam James' Park è la grande quantità di animali che lo popola. Questo polmone verde di Londra ha al tramonto un'atmosfera particolare da provare almeno una volta durante una visita a Londra. La prima cosa che colpisce di Sam James' Park è la grande quantità di animali che lo popola. La prima cosa che colpisce di Sam James' Park è la grande quantità di animali che lo popola. Grazie. 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 Grazie.